Penso che è stata una partita molto difficile per noi, sapevamo che era un giorno importante per Milano, per me hanno una grande squadra, in un gruppo di Euroliga che penso che non è giusto che abbiamo tanti buoni equipi, buone squadre nell' stesso gruppo. Per noi abbiamo fatto una grande partita in difesa, diversa dall'andata in Madrid, anche per noi era importante questa partita, perché adesso siamo virtualmente in top 16 o top 16. Ok, niente più, congratulazioni a mio team, perché è stata una performance molto buona e un posto molto difficile, e noi abbiamo capito da l'inizio che era un gioco difficile e abbiamo capito di giocare 40 minuti con concentrazione e questo è molto importante per noi.